Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di broccoli e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, patate tagliate a pezzetti, scalogno, olio, acqua, dado vegetale bimbi, pepe, noce moscata, sale, basilico e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. Lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riminiamo sul fondo del boccale, aggiungiamo l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso i broccoli, le patate, il basilico e il prezzemolo, il sale, la noce moscata, e il pepe, il dado bimbi, l'acqua. Facciamo cuocere per 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. A questo punto andiamo a frullare per 30 secondi, a velocità 7. La vellutata è pronta, andiamo a impiattare. Vellutata di broccoli e patate. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!